Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo Le Labbra Sapienti, spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. I veri studiosi della Sacra Bibbia hanno capito tutte le parole e sono in grado di insegnarci con maestria tutte le bellezze che nasconde la Sacra Bibbia e le trasmettono ai figli per insegnare tutta la dottrina cattolica che è divinità grandiosa e sapienza allo stato puro. Quindi i degni culturici sanno infondere le vere ideologie, l'arte dell'umiltà, l'attenzione, la saggezza, la sapienza che saranno una luce grandiosa per la nostra strada e per il nostro proseguo vitale. Di leggo adesso appunto la poesia dal titolo Le Labbra Sapienti I degni culturi della Sacra Bibbia hanno studiato tutte le parole Le labbra sapienti hanno per maestria e sanno insegnare la vita alla prole I degni culturi sanno infondere le idee sacre da attuare e sanno offrire attenzioni austere alla santa sfera sociale Le labbra sapienti insegnano la vera dottrina saggia e nel loro sapere conservano la vera vita aulica Le labbra sapienti godono della saggia maestria vitale e tanta pace infondono col loro insegnamento umile Grazie, spero la condividete a tutti Arrivederci Grazie, spero la condividete a tutti